Avrei ancora 38 interventi, che però se vogliamo ascoltare le conclusioni del segretario non riusciremo a fare. Lo so, però non se mancano presidenti di regione, sindaci, però se ritieni... Presidente, se ritieni... Lascio i miei piani, Presidente Crocetta, per carità. L'unica cosa è che gli altri 37 non facciano così, perché se no facciamo una grande partita. Questo non è vero, perché abbiamo parlato... Rosario, puoi parlare, ma non dire che non hai mai parlato, perché siamo intervenuti insieme. Per le liste, che è un brutto argomento. Sì, diciamo che non è che ci sei semplissimo, quindi va bene, non lo mettiamo così, allegria e chiudiamo.